Senatore, sono preoccupato. Qui finisce che il referendum costituzionale passa davvero. Questi ci mandano tutti a casa. Ma questa volta fanno sul serio. Dicono che il Senato, così come ora, sia un doppione inutile della Camera. E che nessun altro paese è così. In effetti. Ah, e poi vogliamo parlare di tutti quegli enti che chiamano inutili. Via tutto. Ma allora non ti ho segnato proprio nulla, vero? Vinceremo noi non cambierà assolutamente niente. Noi non siamo soli. Basterà assinuare il dubbio. Questa riforma elimina il Senato, no? Beh, ma allora così il potere si accentra. Qui finiamo in un regime. Qui si torna al fascismo. Ma credi davvero che questa situazione di fatto faccia comodo solo a noi? No, ragazzo mio. Il grano abbia saputo distribuirlo nei posti giusti. Chi sta già bene oggi, chi riceve regolarmente favori o raccomandazioni, perché dovrebbe voler cambiare? Quindi una massa critica c'è. Ma a questi si possono aggiungere tutta una serie di compagni di strada, inconsapevoli ma fondamentali. Io convinco te, tu convinci lui, lui convince la sua amica, che questa riforma è anticostituzionale, che è antidemocratica. Ma tu lo sai quanti intellettuali sono già dalla nostra parte? A questi non gli sembra vero di essere di nuovo sulle prime pagine dei giornali. Sono quelli che la Costituzione italiana è la più bella del mondo e guai a chi la tocca. Sì, lo so che questa frase fa un po' ridere. Ma se ci pensi, per noi è davvero la più bella del mondo, così come ora. Con tutto il grano che ci garantisce. Inizio a capire. Ma allora noi chi siamo? Per cosa siamo? Noi siamo per la democrazia e la difesa della Costituzione, è ovvio. Siamo per i mezzi pubblici che funzionano. E il venerdì corto per i loro dipendenti. Salari più alti e prezzo dei biglietti più basso. Siamo per la decrescita, ma ricca, e il caffè decaffeinato che tenga svegli. E siamo contro i costi della politica. Per questo dovete pagarci, no? Noi siamo il futuro e le radici, il polli nell'antistamini con tasca, le chiavi dell'audi per chi oggi ha solo un punto. Noi siamo quel cazzo che vi pare. E diciamo quel cazzo che ci dite di dire basta che a novembre al referendum voi votiate no! Potrebbe anche funzionare. Ho fiducia che stia già funzionando. Ho fiducia che stia già funzionando. Sì. Grazie a tutti.